Ciao ragazzi, ben ritrovati. Eh, lo so, sono moscio anch'io, sinceramente non... Cosa vi devo dire? Sì, però non se ne può più... Ah, questa è sfiga, però... Ce le stiamo un po' tirando, ragazzi, non... Dobbiamo chiamare uno stregone, qualcuno che ci faccia una... un qualcosa, perché questo non è solo dovuto a errori, questa è sfiga proprio, come qualcuno che ce la sta mandando, perché non... Adesso va bene tutto, ma adesso te o il Covid non si può sentire, cioè... Chi gliel'ha attaccato? Cioè il rabbio è successo dieci giorni fa, non se ne sono accorti prima, se ne è accorto non oggi, però magari ce l'aveva già anche durante la finale il Covid di Nation League. Boh, non lo so, non so, non so più cosa pensare, però è troppo sfiga, ragazzi. Ieri la notizia di Mignon che è un'attrambata qua, oggi Teo è qua. Speriamo di non sentirci più fino a domani, perché non so, io ho paura di uscire di casa. Io ho paura di uscire di casa, io sono il Milanistrat, qua il Sesco di casa, non so, precipita un aereo, il cielo mi viene addosso, non so, succede qualcosa, bisogna stare attenti. Io ho paura di uscire di casa, ragazzi. Ma chi facciamo giocare sulla sinistra adesso noi? Già in porta dobbiamo far giocare Tatarusano. E abbiamo preso Mirante, perché prima dicevano che Tatarusano, 10-15 giorni massimo, ritorna ieri, appena c'è stata la notizia. Poi ieri sera già subito sono andati a prendere Mirante. Ma scusa, ma se uno deve stare solo 10 giorni, c'è bisogno di andare a prendere Mirante. Molto probabilmente già lì. Oggi si parla di rottura dello scafoide, ma ho capito, ma scusa, ma come se l'è rotto lo scafoide questo qua, che è andato in nazionale, non ha manco giocato? Il problema ancora di Liverpool, se l'è trascinato giusto giusto adesso. Boh, io ragazzi, faccio fatica. Ora viene la notizia di Teo. Chi fai giocare sulla sinistra? Ballotore? Bello. Meglio che gioca Calabria, guarda. Meglio spostare Calabria sulla sinistra e giocare con Caluro a destra. È meglio che vedere Ballotore. A parte che Calabria anche lui è infortunato, ma che cazzo dico pure io. Ciao. Paolo, rimettiti la maglietta. Tanto non l'abbiamo ancora data a nessuno. Mettiti la maglietta e gioca tu, perché magari, magari non è, no magari, sicuramente non ne risentiamo. Ragazzi, cosa volete che vi dico? Non so cosa dire. Iscrivetevi al canale. Tiriamoci un po' sulla mora, la giornata, il morale, iscrivetevi al canale, mettetevi qualche bel pollicione in alto, un bel like. Almeno ravviviamo un po' la giornata. Per quanto si possa ravvivare. niente, la notizia di Teo, cosa dobbiamo fare? Non si può fare niente. Ragazzi, dai, bisogna andare avanti. Poi io sono positivo, perciò voglio vedere positivo, anche se in questo momento sto cercando di essere positivo, ma mi viene difficile. Dobbiamo, dobbiamo essere più forti, anche di questo. Ragazzi, quest'anno è così, quest'anno il nostro più grande avversario è questo, sono gli infortuni, le sfighe, la maledizione. Dobbiamo essere più forti anche di quelle, ragazzi. Piangerci addosso non serve a niente, perché poi dopo io sono uno di quelli che ci crede nelle cose che dicono. Non piangerti addosso, perché poi le cose vengono a catena. se va tutto bene, va sempre tutto bene, anche quando non dovrebbe. Se va tutto male, idem, continua ad andare tutto male, perciò cerca di non piangerti addosso, anche se è veramente difficile. Eh, oh ragazzi, come si fa? Non ci voleva, non ci voleva. Non ci voleva, anche perché adesso con queste due perdite la Champions League direi proprio che è difficile. È difficile, già era difficile prima, figurati adesso con... Ibrahimoci non si sa manco se rientra, diceva anche rientrava, adesso forse per martedì e va bene, è andata a cagare tutti quanti, basta, non so più che cazzo dire. Non so più cosa dire, perché veramente, boh, speriamo di domani di sentirci, perché se ci sentiamo oggi vuol dire che magari è crollato Milanello, non lo so, è venuto giù dalla sede del Milan, nel Vialdo Rossi, perché... boh, non lo so, non so più cosa pensare, non so più cosa pensare, ragazzi. Megnano era lì, cos'è andata a fare il Nazionale? Non poteva curarsi prima? Vedi che il problema delle nazionali c'è, come dico sempre io, c'è il problema, perché è così, è per tutti, non solo per noi, perché anche l'Inter ha i suoi problemi, perché c'ha 5 giocatori che rientrano sabato mattino e il sabato pomeriggio devono giocare, ed è assurda sta cosa, come è così, è assurda anche per la Juve, perché anche loro hanno 5 giocatori sudamericani, perciò, loro in questa maniera, a noi ci è venuto a mancare adesso il portiere, e il terzino, ad altri, ma che cazzo serve andare in nazionale quando non ci sono i mondiali e gli europei, oh, ma non si può organizzare meglio sta cosa? Boh, Boh, ragazzi, sinceramente, chi paga? I club pagano sempre, però ragazzi, cioè, lo prendono sempre in quel posto i club, devono pagare gli stipendi, devono stare attenti ai procuratori, perché cercano di fottere, e le nazionali, vanno i giocatori, non tornano, o sani, o tornano malati, o tornano infortunati, devono continuare a pagare stipendi, o curarli, e oh, ma allora, cioè, non è che, ma cosa devono fare più? Eh, dai ragazzi, veramente, adesso seriamente, non è che io voglio prendere, non ho bisogno di me che difendi club, ma non se ne, cioè, non è giusto, non è giusto ragazzi, perché è un danno per loro, è un danno per loro, la nazionale, ma chi cazzo le guarda, le partite di nazionale, dai, a parte i mondiali e gli europei, basta, ma basta, fatelo quando non c'è il campionato, concentrate un, in un periodo dell'anno che non ci sono tutte queste partite, ma cosa vuol dire, dai, oh ragazzi, non so cosa dirvi, cerchiamo di, di incrociare le dita, di tirarci sul morale, di non far succedere qualcos'altro nel frattempo, perché sennò veramente, non sappiamo più dove, non lo so, non so ragazzi, dai, sto video è così, sono un po' così, dopo magari mi riprendo, ne faccio un po' più allegro, perché veramente, sinceramente, dopo questa notizia, ci sono poche parole, va bene ragazzi, le uniche parole che voglio dire, un bel pollicione, mettetemi un like, fatemi riprendere un pochettino, che magari vedo un po' di visualizzazioni, un po' di iscritti in più, e mi riprendo, forza Milan sempre, e ragazzi, aspettiamo tempi migliori, ciao!